E' scomparsa dal 25 maggio ed è ferita ad una gamba. Si cerca disperatamente la cagnolina nella foto. Bisogna fare presto perché le sue condizioni di salute non sono ottime. L'ultima volta è stata vista il 25 maggio mattina in Viale Lazio, sotto il ponte che porta verso l'ufficio di collocamento. Chiunque dovesse vederla può contattare su Facebook Ilaria Procida, Giovanni Giordano, Vincenzo D'Andrea o Gerardo Scotti, ma può chiamare anche il nostro numero di redazione 333 68 46 841.